Il Renziano farà un eliquida ogni ipotesi di voto in caso di crisi, gli incendiari non servono, soprattutto in un momento così delicato. Mandare il paese che ha avuto il numero più alto di Norti a votare con la pandemia che incombe e non smette di preoccupare deve apparire assurdo agli italiani che chiedono più di ogni altra cosa chiarezza senatore Faraone, dopo la verifica di maggioranza dal Piedi arrivano segnali poco incoraggianti, con Franceschini che ipotizza anche un ritorno alle urne in coalizione con il M5S e con tema Senza Italia Viva. Che ne pensa? Ho troppo rispetto per il Presidente della Repubblica per dire cosa accadrà se il governo dovesse cadere. Inviterei Franceschini allo stesso responsabile atteggiamento. Gli incendiari non servono, soprattutto in un momento così delicato. Mandare il paese che ha avuto il numero più alto di morti a votare con la pandemia che incombe e non smette di preoccupare deve apparire assurdo agli italiani che chiedono più di ogni altra cosa chiarezza, due volte più assurdo se a dirlo è il Ministro del chiudiamo tutto a prescindere. Non ci ha pensato due volte a fermare teatri e musei ed oggi invoca l'apertura dei seggi. Ma come, invece di pensare a convocare gli italiani per vaccinarli pensiamo a metterli in fila per votare? Franceschini somiglia sempre più alla Meloni che in piena pandemia non sa far altro che chiedere le elezioni. Tiriamoci sulle maniche e risolleviamo il paese piuttosto. Se poi il presidente Mattarella valutasse opportuna la via del voto, l'affronteremo senza paura e avviso aperto come al solito.